Ciao, sono Valeria Sorli, sono qui per ricordarvi che tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14.30 va in onda 7 Vinci, programma di giochi e pronostici. Vi ricordo, se volete saperne di più, che potete telefonare 24 ore su 24 al numero 166 140 120. Io e i miei collaboratori vi aspettiamo. Per darvi suggerimenti utili, mi raccomando, telefonate 166 140 120. Il prossimo fortunato vincitore potresti essere proprio tu. Una grande storia d'amore che riuscirà a superare le barriere dell'imperialismo americano. Credono di poterci demolire, ma ci renderanno solo più forti. Mi lascio espalare! Mi chiede di essere ucciso. Candice Berger Steve McQueen Il loro nemico, una Cina maestra che ricorda Quelli della San Pablo, prossima mezza, su Europa 7 Continua l'emozionante viaggio New Age nel mondo della musica classica. Classical in New Age Event, volume 3 Bell'incontro tra la dimensione classica e le coinvolgenti sonorità musicali della nuova era. Classical in New Age Event, volume 3 La musica classica, come non l'avete mai ascoltata prematura. Sottotono Sotto lo stesso effetto, il nuovo hip-hop dei Sottotono Sottotono Nuovo album, stesso effetto Warner Phonet presenta Speciale Sanremo 99 I campioni I giovani Allora adesso raccogli ogni momento Riposa di un ferro I super ospiti Speciale Sanremo 99 Doppio CD e doppia cassetta a prezzo speciale Innocenti Evasioni Ancora tu 12 grandi artisti cantano battisti Amore mio Paola Turci Lit Fibar Manco Luca Barbarossa Concato Raff E tanti altri Innocenti Evasioni L'unico grande tributo a Lucio Battisti Rem La rock band più acclamata Rem Up Un album imperdibile So happy to show us Oh, I hate the lotus Say, haven't you cast? Rem Up Sempre più in alto Ogni volta che parlo di te Innamorati 16 storie d'amore Una canzone di te Benditti Zarrillo Pasco Rossi Grignani Baglioni Dalla Morandi Correose te Innamorati 16 grandi canzoni D'amore Per innamorarsi Ancora Almeno una notte Questa notte Alzate gli occhi al cielo E fermatevi a sognare Romantico Chopin 70 minuti del più romantico Chopin In un CD Da sogno E questo assolato Aberti Jack Deve rientrare Jack Non sta Sabana 22 e 30 E uno fa sempre